Parliamo di tutto questo, cerchiamo le nostre proposte, ci interroghiamo, ci confrontiamo, eccetera Poi arriva il giornalista di turno e uno dei nostri delegati fa questa domanda Senta ma, questa maglietta scura che porta? Boni, perché è vero, eh? Questa maglietta scura che porta? È un omaggio alle camicie nere? Grazie E chi gli rispondi? Dico ma, cioè, ma vi rendete conto di quanto siete lunari? Vi rendete conto che vi rendete ridicoli? Lo dico anche per voi, per la vostra professionalità Pietà, rifiutatevi Cioè, dite a quello che vi ci manda Dice, senti, io mi vergogno, io ho studiato Io ho studiato una vita per fare questo lavoro Io mi vergogno, ma vacci tu a farla sta domanda Che è quello che risponderei io Ma perché anche? Ma pensate di fare un servizio alla nazione Grazie 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 Grazie